in viaggio verso la Val Malenko quarta e quinta prova del campionato italiano con me la voce del trial oscar ciao a tutti ragazzi allora piove governo ladro abbiamo tanto attesa d'acqua a noi in questi giorni comunque ragazzi non perdetevi il filmato perché sicuramente ne vedrete delle pezzi personaggi simpatici e poi soprattutto tante tante clip da ridere ciao benvenuti a Lanzada in occasione della quarta e quinta prova del campionato italiano del trial stasera si salta a 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 campione regionale se n'è per quello 50 o 40 ho rischiato il tutto per tutto mi è andato bene ciao allora è finito tutto bene i due giorni di gara al trial da campionato del mondo perfetto tutto non ci sono stati assolutamente problemi ho visto che i piloti erano tutti contenti dalle le zone è stato un perfetto triunfo finalmente andiamo a casa perché siamo qui da giovedì e siamo contentissimi stanchi ma contenti ciao ciao a 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